Musica Nicola Cirincione vicepresidente del Campobasso 3 su 3 praticamente da quando sei tornato qui in Italia a Campobasso un'ottima prova anche con tanta sofferenza possiamo dirlo Sì assolutamente tanta sofferenza però possiamo tutti tirare un sospiro di sollevo queste sono le vettorie più belle come ho detto prima il merito non è mio è il merito dei ragazzi, del mister e di tutto lo staff perché abbiamo veramente cambiato rotta questa squadra e sono felice di stare qui e stare vicino a tutti i ragazzi Ho rivisto la squadra dei ragazzi che scherzano allenamento, che stanno insieme, che sorridono, che scherzano quindi io penso che per Golizzi ha portato tanto entusiasmo naturalmente il mister è un vincente ha fatto altre categorie quindi era giusto portarlo qui e dare una mano e sto sicuro che veramente questo mister e naturalmente il direttore ci porteranno dove tutti meritiamo Risultato importante presso per la classifica, importante è stato anche il tifo quest'oggi qui al Tome di Sora non solo quello del Campobasso ma anche quello del Sora ma ovviamente una menzione particolare alla Nord Scorrano Ma loro sono fenomenali, ogni volta che vedo una partita e sto qui vicino veramente mi fanno veramente sentire in uno stadio da altro livello sono veramente, le ringraziamo di cuore, naturalmente anche a quelli del Sora è stata veramente una giornata di sport questa è la cosa più bella, vi ripeto i nostri tifosi li abbraccio, li saluto io partirò in mattinata ma sicuramente quando avranno bisogno del mio apporto io sarò qui a disposizione nonostante io sto lontano e seguo tutto, io naturalmente io e il presidente Matt Rizzetta seguiamo tutti quindi saremo sempre al vostro fianco Manuel Esposito una vittoria importantissima, c'è soprattutto la tua firma su questa vittoria su questo risultato con degli interventi davvero strepidosi Sì, ci sono stati dei interventi fondamentali però il merito è soprattutto della squadra che con l'atteggiamento e la voglia abbiamo portato i tre punti a casa Ecco, vincere in questo modo soffrendo comunque così tanto perché è un dato oggettivo forse da quel valore in più sono queste le vittorie che poi fanno una differenza in un campionato competitivo come questo Sì, hai detto bene, abbiamo sofferto tantissimo però questa sofferenza secondo me ci rende ancora più gruppo e ci fortifica e quindi sono molto contento, infatti quando siamo arrivati negli spogliatori ci siamo liberati e è stato bellissimo Allora, Manuel, una vittoria importante in campo ma soprattutto anche fuori sugli spalti ha vinto anche il pubblico di campo basso Sì, li ringrazio perché dove andiamo andiamo fanno la differenza e anche grazie a loro che vinciamo queste partite Leonardo Nonni scherzando in allenamento ti ho chiamato l'uomo della provvidenza anche questo oggi una grandissima vittoria porta la tua firma quasi allo scadere letteralmente No, chi segnava segnava, è andata bene insomma l'importante era vincere poi come ho sempre detto segna uno segna l'altro ha segnato anche Gonzales che ha fatto un salvataggio alla fine devastante quindi anche quello è un gol importantissimo Difensori con Leador, una partita Leo che è stata davvero complicata soprattutto dopo la rete del vantaggio un Sora mai domo che ci ha provato fino alla fine, ci ha messo in grandissima difficoltà poi l'abbiamo portata a casa noi Sì, siamo partiti bene e dopo il gol purtroppo ci siamo un po' abbassati sicuramente dovremmo analizzare i nostri errori dopo devo dire che il secondo tempo abbiamo giocato noi, abbiamo creato anche buone palle gol siamo stati molto bravi, abbiamo trovato il gol, voluto poi dopo il gol abbiamo sofferto e sicuramente anche lì c'è da lavorare tanto però devo dire che abbiamo fatto un grande secondo tempo secondo me Leo che cosa è cambiato nella testa di voi ragazzi, di voi giocatori dopo il cambio di guida tecnica? È scattato qualcosa? Ma sicuramente quando uno perde si commettono gli errori dagli errori l'importante è rendersi conto dove si sbaglia e cercare di migliorare quindi noi siamo partiti anche dai nostri errori e niente, dobbiamo lavorare giornata per giornata per cercare di limarli e cercare di fare il massimo ogni partita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti